La notte scorsa per la prima volta ho preparato l'acqua di San Giovanni. È una antichissima tradizione di cui io avevo sentito parlare ma non l'avevo mai messa in pratica. Poi anche i complice le chiacchierate fatte nei giorni scorsi con le amiche e gli amici e a rinotte ho deciso di preparare l'acqua di San Giovanni. Di cosa si tratta? Allora la vigilia della notte di San Giovanni quindi il 23 giugno bisogna prendere un recipiente con l'acqua e metterci dentro dei fiori. Fiori che possono essere i fiori che si trovano anche i fiori che si hanno sul balcone oppure si può andare a raccoglierli nei campi o cercando di non distruggere gli aiuole. E poi si prendono i fiori e si mettono dentro questo cattino con l'acqua che bisogna lasciare fuori tutta la notte perché così l'acqua raccolga, l'acqua quei fiori raccolga la rugiada notturna e poi la mattina si usa quest'acqua per lavarsi il viso e per lavarsi le mani e dovrebbe essere una cosa di propiziatrice, di buon augurio, comunque un modo per salutare l'inizio della stagione estiva. Io l'ho fatta con molta trepidazione devo dire perché mi piacciono i riti anche se ne conosco molto pochi e più che altro li conosco per sentito dire perché riti non se ne facevano tantissimi nella mia famiglia non di questo tipo nonostante mia mamma abbia origini contadine quindi abbia conosca tutta una serie di riti che sono sicura quando l'era bambina venivano eseguiti religiosamente. Allora adesso io mi sono appena svegliata lo senti anche dalla voce ancora non ho fatto nemmeno colazione quindi tra un po' andrò sul balcone mi sono messa per l'occasione il kimono a fiori la mattina quando mi alzo non uso vestaglie uso una serie di kimoni poi magari un giorno vi racconto dove li ho presi e le avventure del loro acquisto e col mio kimono a fiori adesso andrò a sciacquarmi il viso e le mani a fare le abluzioni con questa meravigliosa acqua di san giovanni che tra l'altro ieri era bellissima contro un cielo cielo nero con questa strepitosa luna piena. Buon san giovanni